Tempo di frutta, tempo di fragole, tempo di ciliegie. Siamo andati a curiosare nel laboratorio delle valli di Natisone di Valeria, ad Azida esattamente, all'entrata delle valli a San Pietro Natisone, dove lei ha questo negozio e laboratorio che si chiama Gubana della Nonna. Oltre che fare i dolci tradizionali, i Gubana e Strucchi, per i quali lei è andata a consultare, a intervistare le signore delle vallate per raccogliere le varie sfumature delle ricette con cui si fa la Gubana, si fa la Gubana e gli Strucchi, lei è una vera specialista di dolci di stagione. In questo momento, ad esempio, sta facendo la torta di ciliegie e la torta di fragole. E' giusto parlare di stagionalità, non solo nel cibo classico che noi abbiamo, verdure per esempio, ma anche nel pesce, ma soprattutto in questo momento con i dolci. I dolci sono un aspetto a tavola molto importante. Diceva Giorgio Trentin, grande maestro del Boschetti, che il dolce deve essere perfetto a fine pasto perché è l'ultimo ricordo di quello che si è mangiato. Se si sbaglia il dolce si rischia di perdere anche l'effetto positivo che si era conquistato o accumulato durante il pranzo o la cena. Ebbene, Valeria propone questi dolci. Lei è bravissima nei dolci e le mele, per esempio, ha una gamma molto vasta, dallo strudel alla torta. Ma noi ci soffermiamo su questo delle ciliegie. Ci siamo fatti dare anche la ricetta che noi vi leggiamo. Scusate, devo mettere gli occhiali perché mi è più comodo. La ricetta Ingredienti Farina 00, mandorle macinate, zucchero, burra, uovo, lievito per dolci, sale e ciliegie senza nocciolo, ovviamente. Lavorare in una terrina le uova con lo zucchero, un pizzico di sale, unire il burro fuso tiepido e la farina di mandorle macinate. Mischiare, a parte la farina 00, con il lievito e unirla all'impasto che deve risultare morbido. Aggiungere all'impasto a metà delle ciliegie e versarlo in una tortiera, aggiungere le rimanenti ciliegie e infornare a forno caldo per 40-45 minuti circa. Come vedete è molto semplice. La variante della torta di fragole è praticamente la stessa. Con lo stesso impasto, dice Valeria, si può fare una torta di fragole e cioccolato bianco. Gli ingredienti di lavorazione come sopra, fragole a pezzi, macerato con un po' di zucchero e scagli di cioccolato bianco. Preparare l'impasto, versarlo a metà in una tortiera, coprirlo con le fragole scolate e unire il cioccolato bianco a scaglie. Versare il rimanente impasto con il cucchiaio in modo uniforme e infornare come sopra. Valeria fa anche degli ottimi biscotti, una serie davvero vastissima di biscotti, tra cui dominano i furlanis con farina di polenta e uova sultanina, il ciocco furlanis con farina di polenta e uova sultanina e il resto voi dovete andare ad assaggiare. Grazie